Stiamo andando avanti con l'ospedale di Padova, quindi abbiamo presentato in crite la gara per la progettazione. Il via libera dovrebbe arrivare presto, anzi celermente, ha promesso così il governatore Zai, annunciando un nuovo passo nel percorso che porterà alla realizzazione del nuovo ospedale di Padova. Nelle scorse ore il direttore generale dell'azienda ospedaliera Luciano Flora ha trasmesso alla Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia lo studio di prefattibilità per il nuovo polo della salute e che sorgerà ad est della città nel quartiere San Lazzaro. L'importo complessivo è di 481.692.600 euro solo per i lavori. Il via libera della Commissione regionale, appena arriverà, signerà un passo fondamentale del cammino di quest'opera che Padova attende da decenni. Mai prima d'ora si era arrivati a questo punto. Dopo anni di discussioni e numerosi cambiamenti d'area, ora sembrano esserci tempi certi. Il cronoprogramma annunciato da Zai è fitto. C'è la verifica, la valutazione di impatto ambientale che dovrebbe arrivare entro il 31 di dicembre. Poi ci sono 120 giorni per la procedura di affidamento per la realizzazione del progetto di fattibilità. Altri 180 giorni per la realizzazione del progetto definitivo e altrettanti per la validazione di quello esecutivo. Mentre le procedure di affidamento dei lavori richiederanno circa 240 giorni. Conti alla mano dunque bisognerà attendere altri due anni prima dell'inizio dei lavori. La realizzazione è prevista in 48 mesi, ovvero 4 anni, ha concluso Zaia. Dunque, se tutto proseguirà senza intoppi, entro la fine del 2026 il nuovo ospedale di Padova potrebbe vedere la luce. Zaia al momento non prevede la nomina di alcun commissario, ma tutto è affidato all'esperienza del dottor Flor. Anche sulla questione finanziamenti è chiaro. Vi ricordo che c'è il recovery fund. Adesso per carità, 9 miliardi ci bastano a noi veneti, se ce li danno. Tutti a noi però. Però ciò premesso, la modalità di appalto, la modalità esecutiva, noi abbiamo chiesto espressamente al dottor Flor che alla fine sia decretata da una commissione ineccepibile ad autorevole che fa da advisor per la regione, no? Soddisfatto il sindaco di Padova, Giordani. L'avanzamento del progetto dell'ospedale sarà avanti a ritmo sostenuto, per cui ringrazio il direttore generale Luciano Flò per la velocità e l'impegno che sta mettendo, Luca Zaia perché sta mettendo anche lui in massimo l'impegno per la realizzazione dell'ospedale. Non credo sia nessun problema sotto l'aspetto economico, perché mi ha sempre detto il Presidente che l'ultimo dei problemi era l'aspetto economico. Insomma, il percorso verso il futuro sanitario del Veneto e anche dell'Italia è segnato.